Il disastro del guaiolo. Io ricordo che quando era un bambino, ed ero impressionato da questi quasi due vita morti che ci sono stati, perché in una comunità, a un certo punto, nonostante che i giorni precedenti, le settimane precedenti, tutta una serie di segnali c'erano stati su quello che poteva accadere, e nonostante che dei cittadini, non correbbero così, ma semplicemente dei rivederi che sta per succedere, questo, questo e questo, quei cittadini sono stati addirittura isolati dalla comunità e persino indicati come dei provocatori. Qualche giorno dopo ci sono stati due vita morti. Noi, otto mesi dopo l'alluvione dell'11 marzo, abbiamo fatto la prima vettura e abbiamo indicato luoghi, tempi e modalità in curva dell'accademia, e ancora una volta sono stati facili profetti. Io adesso non voglio aggiungere l'altro, se non dire una cosa poi come il merito del Presidente, se non dire che l'acqua ancora una volta coglie le nostre comunità divise. Nelle settimane scorse abbiamo avuto i momenti di sofferenza, perché proprio in questa sala c'è stata persino una litigata fra di noi. I cittadini non devono dare risposte, le risposte le devono dare le istituzioni, i cittadini devono avere comportamenti adeguati e devono pretendere le risposte. Sono le istituzioni via responsabilità di governo per la risposta del Presidente. Noi siamo presi ogni giorno da mille problemi, da mille questioni, da mille difficoltà. Sta di fatto che poi accade ancora una volta quello che è accaduto, cade l'acqua, succede quello che è accaduto e alla fine abbiamo due strade, o riscopriamo di essere comunità e quindi di saper stare insieme, di saper difendere insieme la terra, il territorio, i diritti di civile e il diritto soprattutto a vivere in sicurezza in un territorio liberato, oppure noi siamo condannati a essere niente, a essere nulla e a sopportare questo e altre cose in realtà. Il ruolo e la funzione del Comitato per la difesa delle terre iomiche, in questi ultimi due anni, da quando è successa la prima avvenzione, ci ha insegnato che si può passare da essere singoli, ognuno preso dalle sue cose, a essere una comunità che reagisce insieme e che fa le battaglie, una comunità che non è scontato che è vinta, può essere anche sconfitta, ma se rimane divisa sarà sicuramente scontato. Se sa unirsi, se sa lottare e alzare la destra e pretendere dignità, questa comunità ha la speranza di poter vincere una battaglia. Oggi qual è la battaglia? Se non prima di tutto quello di pretendere un territorio tutelato. Ma possiamo continuare a vivere in un territorio come questo, così, pieno di fiumi, cinque foci di fiumi, sei foci di fiumi in un alto così, stretto, di territorio, pianura regionali come queste, devastate nel modo come sono devastate. Ma possiamo continuare a sopportare un consorzio di bonifica, di prado per metapunto e di stornare in cara, governato non solo dagli letti e dagli irresponsabili, ma anche dai ladri, dai ladri successi e dai ladri, dai ladri, dai ladri, dai ladri, dai ladri. Grazie bene, grazie, grazie a te. Grazie a te.